L'ex paparazzo dei VIP Fabrizio Corona rischia il carcere, sotto accusa la sua ospitata al grande fratello VIP, non è facile aspettare Fabrizio Corona potrebbe tornare in carcere, infatti la procura generale di Milano ha spiegato davanti ai giudici della sorveglianza di Milano che l'ex paparazzo dei VIP avrebbe violato in più occasioni le regole dell'affidamento terapeutico in prova Sotto accusa alcuni particolari comportamenti di Corona, nello specifico le ospitate televisive, tra cui quella ormai nota del GF VIP in cui ha attaccato Ilari Blasi La replica di Fabrizio Corona alle accuse.Così, ospiti di Mattino 5, Fabrizio Corona ha commentato oggi quanto sta accadendo, non rilascio interviste, non dico nulla, non è facile aspettare una notizia del genere, nemmeno per uno come me Vedremo se decideranno che devo tornare in carcere, noi siamo convinti di essere nel giusto Mi dispiace però che escano certe notizie dalla procura, si dice che la mia ospitata al grande fratello VIP non fosse autorizzata, ma magari non è vero Corona ha proseguito, queste notizie che escono dalla procura rappresentano un grosso danno d'immagine per me, specialmente in questo momento che sto chiudendo contratti e mi danneggia, però capisco che è il gioco dei media e amen Andiamo avanti Non farmi parlare, aspettiamo Mi suicido in questo momento se rilascio interviste, però l'ho detto anche ieri nelle storie, penso di avere fatto un comportamento giusto, poi vediamo cosa decidono e la decisione che prenderanno la rispetterò come ho sempre rispettato Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like Iscriviti per non perdere le novità, grazie per non perdere le novità